Sua maestà il re ha annunciato ufficialmente che abdicherà affinché il Bhutan possa diventare una democrazia. Tashi mi servono delle armi, le cose vanno sistemate. Siamo nell'ufficio elettorale. Adesso vi insegneremo come si fa a votare. Il mondo intero ci sta puntando gli occhi addosso. È inaccettabile che si sia registrato solo il 10% degli elettori. Ma chi è quell'eroe? Lo chiamano 007. 007? Il signor Ron è un collezionista di armi. Abbiamo cercato quel fucile in tutto il mondo negli ultimi trent'anni. Un momento, guardate. Ma quello è un monaco con un fucile. Perché ce l'hai? È per il mio lama. E a che gli serve? Sta progettando qualcosa di importante per la prossima luna piena. Ah, lo stesso giorno delle elezioni. Di chi? Da quando il cambiamento è arrivato nel nostro villaggio, la mia vita familiare non è stata sconvolta. Tuo padre è un traditore, ha sostenuto un nostro avversario. Sto facendo tutto questo solo per noi. Perché ci stai portando a litigare? Noi non siamo così. La democrazia è un traguardo fondamentale per il nostro paese. Sì, ma eravamo un paese felice anche prima. Non so nulla di queste modernità. Non so se siano un bene o un male. Prima però dobbiamo sistemare le cose. Non pensi che ucciderà davvero qualcuno? È un monaco, giusto? Non lo so, amico. Viviamo in tempi strani.